Esiste un posto a Bologna e nei dintorni di Bologna dove si danno oltre 260.000 pasti all'anno, in cui ci sono 200 posti letto a disposizione, un luogo aperto 365 giorni all'anno H24, formato da 11 comunità, 16 progetti sociali, che ha 90 dipendenti e più di 200 volontari e che si occupa di poveri, di nuovi poveri, di drogati, di etilisti, di ragazze magri che trovano sostegno e tutto è partito dall'intuizione di un uomo di cui vi voglio parlare in questo momento, un uomo nativo nella provincia di Venezia della diocesi di Chioggia a Pellerina, di un uomo che è stato per un periodo un prete, poi ha smesso di essere un prete e poi è tornato a fare il prete e che viene ricordato ancora oggi anche se è morto nel 1969 da molti bolognesi come il barbone di Dio, padre Olinto Marella. Primo quadro, prima scena. Immaginatevi l'Italia della prima metà del 1900. C'è un giovane professore di filosofia con un grande barbone che insegna in diversi licei, ha girato un po' tutta Italia, a Messina addirittura, a Pola, a Rieti, a Padova e dopo quasi 15 anni di insegnamento finisce a Proda a Bologna. È una bella testa, è uno veramente in gamba, pensate che traduce anche diversi libri di Gian Battista Vico che è un filosofo napoletano molto conosciuto del 600 e fa parte anche della commissione per la revisione dei libri di testo, quindi è una bella persona, tutti lo conoscono e lo apprezzano, ma nessuno sa che è un prete, nessuno sa che è un prete perché lui non può più fare il prete, perché ha dovuto inventarsi un lavoro perché non aveva di che vivere e quindi si è laureato un po' in fretta e furia nel 1916 per conseguire quel tipo di laurea e potere finalmente insegnare. Interessante perché quel professore è diverso dagli altri, nessuno sa che è un prete, lui lo tiene nascosto anche perché è uno spretato, quindi le persone lo guarderebbero con così una specie di sguardo torvo. Eppure interessante cosa dice di lui un suo studente, a Rieti, pensate un po'. Dice questa cosa a questo studente, quello non era un professore come gli altri, Amarella non interessava tanto la cultura quanto l'uomo e poi aggiunge, qualche decennio dopo, come aveva potuto la chiesa, non capire ciò che avevo capito io, laico e miscredente, che cioè quell'uomo era un santo. Pensate che questo studente a Rieti si chiamava Indro Montanelli, il famosissimo giornalista. Allora questo primo quadro ci dice una cosa molto interessante, molto intensa, qualunque sia il tipo di lavoro che facciamo non è necessario apparire come cristiani, non giriamo coi crocioni oppure i preti o le suore e tutti i vestiti in un qualche modo, ma ciò che fa la differenza, ciò che fa lo specifico del nostro essere cristiani, quello che ci insegna padre Olinto Marella è proprio questo, la capacità di guardare prima l'uomo, prima la persona che hai davanti, prima quello che hai davanti, che tu sia una cassiera supermercato, che tu sia una casalinga, che tu sia un grande manager, si vede che tu sei cristiano se prima di tutto tu hai a che fare con delle persone, cioè con quelle connotazioni particolari di affetto, di accoglienza, che contraddistingue o dovrebbe contraddistingue il nostro essere cristiani. E attenzione, non uno remissivo, passivo, arrabbiato, ma lo vedremo dopo, perché padre Olinto potrebbe a tutte le ragioni per essere inferocito, incarognito contro la vita, contro Dio e anche contro la chiesa, soprattutto contro la chiesa, invece no, accetta al tempo di trasferirsi, pensate lui che era in provincia di Rovigo, di Chioggia, andare fino a Messina a insegnare, poi a Rieti, ma poco importa, lui ha fatto di questo insegnamento in quel momento ciò che Dio gli chiedeva. Ci possiamo chiedere come mai questo spretato, che però riconosciuto da uno grande come Indro Montanelli, un grande giornalista ateo, laico, che resta colpito e dice, ma come faceva la chiesa non vedere una roba del genere? Come mai è finito in questa situazione? E questo ci permette di capire un po' l'origine di questa bruttissima vicenda, che poi diventerà una meraviglia di Dio.